Ok rimangono Shell e Bonny Shell e Bonny Bonny La torta in faccia continua a ricordarmi una faccia esplosa e mi turba tantissimo Ok Ok D'accordo Passa l'ambulanza D'accordo Ah mi sono ricordata dove si rivedono i personaggi Ok perché avevo avuto il dubbio Tutti quei personaggi dove si rivedono nella seconda stagione di The Walking Dead avevo avuto il dubbio Ora me lo sono ricordato Ok Dopo che abbiamo trovato te, tu stessi ancora molto attraverso quella cosa. Non ho mai pensato che tu abbia fatto. Tu non sei ancora fuori dalla città, ma... Hai venuto molto bene, Bonnie. E sono orgogliosi di te. Guarda, tu sai che non mi fai nulla, certo? Asi che siamo insieme, ci sarò per te. Tu hai bisogno di rispondere. Tu sai quello, certo? Cosa ti dicono? Bonnie... Leland? Bonnie? Lei? Ciao, amore. Ha, 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 ha. Ho trovato qualcosa. Cosa ti stai facendo? Solo parlando. Parlando. Parlando, eh? Cosa cosa? Cosa ti stai facendo? Oh... Eh... 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 Lobsteri. Lobsteri. Eh... Ficcio. Credo che sia valore una scuola. Per la città, sai? Leland, tu odi ficcio. No, non è totalmente vero. E quanti giorni hai ficcio? Cosa? Io ficcio tutto il tempo. Pensavo tu, non? Ehm... Ma non pensavo... Non sembrava. Ehm... Ma che hai trovato? Ti racconto. Non vuoi disperare il porto con tante... ...ma chè... ...ma chè... ...ma chè... ...ma chè... Cosa... So, dove hai il bagno, Dee? Dee? Cosa è in il bagno, Dee? Hai detto, è una sorpresa. Hey, Dee, quando torniamo a casa, ti lasciate me prendere qualche di questa polizia? Sì, signore, ti piace questo color? È il mio preferito, e dopo di oggi potrei usare un nuovo colpo, sai? Siamo qui, sento che un ratto con queste pezzi. Non per interrumpire la ragazza qui, ma Dee, è buono. Guardate, ho trovato la ragazza a parte, ok? Di dove, da la ragazza? Un'altra parte da quella. Cosa c'era? Non credo. Hai pensi, oi non sai? Ci sono le stagioni, Leland. Justi diciamo, baby. Hai ragazzi sicuramente mi ha spiegato molto a me, lontano. Honey, questo non è vero. Dicci una volta che hai avuto con me in l'ultima settimana? L'ultima settimana? Ok, non posso ricordare una specie, ma ho saputo che ho avuto. Non è vero. Questo è come tutte le nostre combattie. Non è vero, ogni volta. Ora siamo andati qui in l'ultima settimana, sogn' per quanto? Non ti voglio andare a la campi? Non ti voglio andare a la campi prima? Non ti voglio andare? Hanno che la voce sta in. Ma te stai. 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 con questa attitudine e ora stanno in questa fredda in questa fredda in questa fredda in questo fredda senti a me ora, ho avuto da qui senti... non lo so... noi possiamo cercare questo uff... 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 noi possiamo cercare questo noi possiamo cercare questo ma dovremmo andare a un'altra oh, ora ti concordi con me Bonnie, d'arrivo... D'arrivo, d'arrivo... D'arrivo! 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 I know what side your bread is buttered on D'arrivo! 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 Ciao ci sono due D' toucazione... Golivo di grido Beh, poteva girare comunque, però vabbè Cazzo Dai, dai, dai Eccola là, è il poligrano Ok, dobbiamo andare avanti senza farci beccare Che situazione di merda Mamma mia Beh, super facile ovviamente, però Ha fatto un balzo? Io non gliel'avevo chiesto, però d'accordo Poi, tra l'altro sono meccaniche che nel gioco base non ci sono queste Oh, cazzo Ho sbagliato Sì, il tempo però di reagire, vabbè Comunque carino, ho provato un attimo a vedere che cosa succedeva perché... perché sì Che per questo non ho reagito subito, subito Ok Ok Ok, Barney, stay calm Find a weapon Cazzo, che cosa brutta, che cosa fa... Che cosa brutta Che cosa brutta Che cosa brutta Oh... Oh... You... You did this... Oh... God, you killed me You... You killed me You killed me You killed the other... Oh... Anybody see anything? I should've never trusted you I should've never trusted you Just... Just a junkie I... God, I'm so sorry So... I can't... Oh, God, God I knew you'd fuck up again Take him I... 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 No... God, I'm sorry I need him I need you both You... Bitch Mary, you wanted him Didn't... Think you... Had to stop it Dee, I would never... I swear this has nothing to do with him It was an accident You fucking... Junkie It's so malicious Dee... God, what happened? Oh, Jesus Oh, Lord, Bonnie What happened? Oh, my God, Dee What happened to you? I... I don't know I... I found her like this How did this happen? Why didn't you wait for me? Digway! Come on! She deserves a proper burial We can't just leave her here in a fucking... Cornfield We can't leave her like this Help me move her Bonnie Please We can't take her with us What if she turns into one of them things? She won't... Do that Leyland Keep moving! We gotta be closing in! Okay... God, okay... But... I don't... You got anything to say to her? I'm sorry, Dee I really, truly am I really, truly am She loved you, Bonnie I'm sorry To... Do this to you, darling I'll leave you here Call out if you see him! This way I know It's hard, but I need you, Leyland I think I saw something over here I think I saw something over here They went this way What the hell are you doing? If she's gonna die for this thing, I for damn sure ain't leaving behind Giustamente Almeno Oh Cazzo Mamma mia, pesante Io questa cosa Questa non la ricordavo Ripeto, non mi ricordavo come ci si arrivasse Ripeto, una pesantezza del genere Della prima stagione Ce la sogniamo Nel futuro, secondo me Però, appunto Io ho voluto mentire Perché sono sicura Che se avessi detto la verità Appunto, lui mi avrebbe mandato a fanculo Non l'ho uccisa apposta C'è stato veramente un incidente Quindi... Tanto è morta C'è inutile Inirrilevante Chi l'aveva uccisa È morta Piuttosto che dirgli la verità E mettere a rischio lui e me Non l'hai fatta apposta Cioè, non volevi Non volevi sul serio Quindi... Ok Ultima missione Ultima storia Pesante Quella cosa è la testa spaccata Come si muore in quel modo Fatto così Bene In realtà Ok E qua siamo Al solito Alla solita stazione di servizio Che abbiamo già visto tante volte Eh, qua è bello avanzato comunque Vabbè, sì Questa è una domanda molto interessante Questa è una domanda becca that was great thanks sis you think we can do something like this every week that sounds like a great idea maybe we can all get in on it like some kind of weekly talent show that was amazing becca we could all use a little more music in our lives did i ever tell you that i used to play in a band yes roman you've told us she doesn't want to hear about it again all right all right in that case let's get back to work oh and thanks to boyd's hard work on the vegetable garden we're having fresh soup tonight okay let's get to it you want to help me and shell do the supply inspection cool you check the flashlights this time i'll look over the guns okay but be careful people's lives depend on those we can't have them screwing up because we got lazy shell when you get a sec meet me out back help me feed the watchdogs the watchdogs the watchdogs come pg di videogioco ci ha visto da qualche parte boh porta sul veicolo qua non c'è niente va bene you scared me he's hungry guess he knows it's feeding time it's not an animal roman well it's not human either not anymore you know uh your sister said she wouldn't mind doing this roman we've talked about this becca doesn't need to deal with this kind of thing listen i know you think that giving her an easy life is what's best it's really not it's really not i know i just wanted to have a little more time to be a kid as long as she knows how to protect herself that's fine i don't want her to stop caring about people okay i don't know i'll check it out i gotta get back out front looking forward to that soup c'è dopo dopo che visto questa cosa la voglia di mangiare proprio ma voglio doppiare voglio doppiare uno zombie un giorno ad essere troppo divertente mannaggia si ma non ho visto non l'ho capito cos'è cos'è un peluche che sta mangiando vabbè dove sta mangiando un peluche non parliamo di peluche mangiati che oggi ha avuto una brutta notizia sui peluche masticati vabbè lasciamo perdere avevo fatto un regalo è finito masticato oh jesus don't ever fucking do that again whoa what's your problem i do this all the time you don't get all pissed off i'm sorry it's it's just the watchdogs i guess they found a puppy a puppy yeah i guess it just got to me you know it was it was so little you don't think about babies anymore but after a while you just kind of accept this is it yeah i guess you kind of forget right but then you know there it is you see it and you want to protect it and now it's gone that sucks maybe if clive dies next we can put him out there instead make a better watchdog anyway potresti essere un po più precisa comunque qualcosa di brutto potresti essere un po' potresti essere un po' Andiamo, abbiamo dovuto trovare Roman. Non mi ha fatto. Non mi ha chiesto di essere qui. Signore. Perché il Geo? Cosa hai fatto? All'altro che ho fatto è mettere il bianco in pollo e guardare gli dottori. Qualcuno ha fatto il bianco. L'altro che aveva i porsi e i bruciati. Guardi a lui incontrava lo spettacolo. È stato spettato? No, non hanno fatto molto bene. Che ha fatto? Cosa? Cosa, medicina? Cosa che potrebbe prendere il suo cuore? Cosa cosa usuale. Non potrei riuscire un'altra informazione. Non credo che gli ha parlato inglese. Non credo che gli ha iniziato. È il secondo break-in che abbiamo avuto in ultimi due settimane. L'ultima volta non potremmo capire. Ci sono riusciti con più medicina di cui potremmo perdere. Beh, tutti conoscono il modo di riuscire a vivere. L'altro è venuto per la città. Diamo solo un po' di lui. Ma cosa se c'è più di loro? Cosa storta comunque. Cosa storta comunque. Cosa storta comunque. Ma Vernon e la barca dovrebbero essere la roba della prima stagione. Quando le lasciano il suo cuore non attenzione, noi lo scoprimmo. E' quando il nostro gruppo si è partito. Non può rimanere qui. Ma veramente, il gruppo è non un'opzione. Il gruppo è un'opzione. Il gruppo è un'opzione. Non tutti, ma alcuni. Perché non riconosco le facce, manager Matt? C'è un'opzione. Quindi Vernon era una merda. E' un'opzione. E' un'opzione. No, non mi puoi dare il tempo. Io direi... Un'opzione. E' un'opzione. C'è quello che bisogna fare. E' un'opzione. Ci devi essere un'opzione. Fai ma cosa, se la tornà ilore? Con le giusto o... O... O l'ultimo? L'agricità è wortho perdere nessuno di noi. Gesù, non c'è nessuna altra scuola, non c'è? Non possiamo rimanere qui, e non possiamo lasciare qui. Se c'è anche una possibilità di venire e raccontare le persone che potrebbero provare a uscire, non possiamo rispondere. Non mi chiede a te guardare, ma se noi facciamo questo, siamo tutti insieme. Se questo succede ancora, sarà uno di voi che prendere questo triggere. Sì, ma levati da di fronte, che cazzo! Non davanti! Io mi sarei tolta, più che altro, sai, tipo, pezzi di cervello addosso, magari mi sposto, non dico che devo stare a guardare, però almeno levati. A parte è pericoloso, il proiettile esce, ti piglia. Ce la puoi fare, Gio, così? Il fatto della gang è troppo rischioso. Non c'è nessuno che non facciamo mai più. Mi piacerebbe che le cose stavano ancora come si erano. Cioè, Roman è troppo concentrato per assicurare che nessuno può andare in più. Tu sai che è impossibile, certo? Beh, dopo l'ultima volta. Roman non ha fatto alcune possibilità. E io dovrei riuscire l'impostante dietro per la città. becca are you sneaking out again did anyone see you leave no no one saw me you've got to stop doing that you're gonna get us both in a lot of trouble i don't see why it's such a big deal we had another break-in just last month becca you know what it means if someone were to see you and follow you back here no one is following me there's no one out there shell need to talk to you it's open what's going on hey becca hey when you get a sec i need you to come out and talk to me it's important okay i'll be outside you'll see me give us a minute yeah just don't take too long what was that all about maybe he found out about the boards shit you think so if he did i won't say anything but you better stay away from there for a while okay stay here it'll be just a minute i'll fill you in when i get back chissà che fine ha fatto vernon perché non trovo nessuno perché mi sono persa ma non ho voglia di parlare con voi signori devo solo capire dove devo andare visto che non trovo nessuno ah ok forse giusto ok roman good you're here what's this all about it's stephanie what happened we caught her trying to escape maybe she wasn't maybe she just wanted to get outside these walls for a while ever since the incident you've made this place feel I don't know we made it safe she was definitely trying to escape she had most of our ammo and medicine with her and all of us now we're in that position again where we can't let her go you do know why I'm telling you this right yeah you said that next time it'd have to be one of us you went along with it last time you weren't convinced it was the right thing to do now I need to know that you're with us 100% i'll do it i don't really have a choice do i no esatto you got your gun it's in the camper I'll give you a few minutes to get your head together God what do I tell Becca that's up to you whatever you say I'll back you up beh non glielo dici cioè signori ovvio che non glielo dici cioè it's it's nothing nothing you have to worry about shell just tell me someone was caught trying to steal our supplies who Stephanie si ho capito no io lo volevo dire però oh my god what the hell did she do that for Roman says we have to kill her yeah why would she do this to us doesn't matter she did what she did stupid Roman wants me to do it I'm sorry let's just get it over with your gun's over there in the drawer afferra chiavi you know we don't have to do this we can just go no non volevo per questo we've survived on our own before if we just go ma gioco no 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 non voglio minimo finite stuprate ma per favore ma per favore esatto no gioco no gioco gioco ah ok anche volendo non posso I don't want this to be who we are just let me do it then no I'll do it you shouldn't ever have to do something like this I just need a second this really sucks yeah yeah it does Michelle it's time I don't ever want to put you in danger if that means this is what we have to become then it is what it is che devono fare loro due da sola ma per cortesia un attimo di di razziocinio ho capito che ti fa schifo ho capito tutto quanto ma che cosa fai vai da sola con una ragazzina e ripeto la cosa migliore che ti può capitare che ti stuprano cioè dai per favore ne faccio sparare alla ragazzina giustamente ci mancherebbe altro già è brutto viverla figuriamoci appunto questo è praticamente Rose di Detroit Become Human e lei uguale ok ripeto peccato peccato che non hanno fatto altri DLC così delle stagioni io un poco ci spero nella quarta magari però ma comunque complimenti non si sono accorti manco manco della della macchina che arrivava no no vince se Sì! Bonnie, fai vero, solo perché lei dice che è vero non significa che è vero. Tu dovresti sapere di questo. Almeno quello che ho fatto è un accidente. Hey, è sufficiente! Poi, guardate, se ho saputo una cosa da Danny, è che abbiamo bisogno di sottolineare e proteggere noi. What? That guy era un uomo. Tu dovresti essere felice che è stato morto prima che Chell e Becca conosci. Why? Non preoccupare. Yeah, scusate questo. Non conosciamo il tipo di persone che stiamo parlando. Che giro di spiegone. Che giro di spiegone. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes I'm going to be getting back in my car and on my way. Beh, in realtà quel posto è molto sicuro comunque. è un po' di spiegone. Noi come voi e un po' di vecchia vecchiai Non mi piace questo, ragazzi, dovremmo andare fuori Non mi confio Of course non ti, Russell Non ti confio nessuno Cosa farà di convincere te? Non lo so Russell, vieni Oh vieni, ragazzi Cioè, abbiamo lasciato queste foto per che qualcuno possa trovare noi, non? Beh, potrebbe essere una trap Cosa se vuoi uscire? Oh, no La scelta è tua, quindi chi vuole venire con me? La scelta è tutta la scelta. 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 la scelta è tutta la scelta.